Centro Stile Design consegnerà oggi il premio Innovare con Stile. Quanto è importante per voi l'innovazione? L'innovazione fa parte di uno dei nostri cavalli di battaglia. Noi vendiamo innovazione, siamo un'azienda partner di aziende di fama internazionale e quindi l'innovazione è il nostro prodotto. Di che cosa vi occupate voi nel dettaglio per cui è così fondamentale per voi l'innovazione? Vogliamo raccontarlo? L'innovazione per noi rappresenta fondamentalmente quello che fa parte del progetto. Quindi noi ci occupiamo di progettazione e design e la progettazione è insita nella progettazione e l'innovazione. Quindi fondamentalmente cerchiamo attraverso l'innovazione di riuscire a dare quello che si aspettano gli utenti. Quindi siccome ci occupiamo di veicoli, in questo caso nautica, yacht, ci aspettiamo che l'utente finale apprezzi l'innovazione in termini proprio di usabilità e in termini pratici. La vostra progettazione tra l'altro spazia in ambiti anche se vuoi molto diversi anche solo per quanto riguarda i materiali perché posso immaginare nonostante non siano esperta ma la nautica piuttosto che l'industriale sono molto diversi tra loro. Sì, i nautica industriali per il vero sono molto diversi come target di utilizzatore perché chiaramente parliamo di oggetti che vanno uno per il mercato leisure, quindi di utilizzo di, se vogliamo, tempo libero, ma non solo mentre l'altro dedicato completamente al mondo del lavoro. Quindi sono due mercati che hanno esigenze diverse ma comunque entrambi sono prodotti che vanno ad asservire a un utilizzo vero e proprio che è quello di trasportare persone oppure di fare determinate attività. Quindi sì, è vero, sono diversi ma si somigliano molto soprattutto dal punto di vista progettuale, quindi di concezione dove noi comunque facciamo un insieme di varie tecnologie, di molti altri che sono fornitori, come fornitori di motori, eccetera e uniamo in un prodotto che diventa il contenuto che tutti vediamo. Che cosa vuol dire unire l'innovazione, quindi le nuove tecnologie, la praticità, diciamo, con il design? Ecco, questo è un punto focale. Noi partiamo, la nostra azienda ha un po' una vision in questo senso, cioè il design in passato era vissuto come arte, ma allo stesso tempo bello e purtroppo non è sufficiente. La nostra azienda ha un obiettivo di unire queste due parti che sono la parte di utilizzabilità, quindi dell'innovazione intesa come qualcosa in più, quel gadget che ti fa essere più comodo, che rende il prodotto più fruibile unitamente a un prodotto che invece deve essere bello. Quindi diciamo che è una visione abbastanza ampia, 360 gradi, design, innovazione, engineering, oggi effettibilità sono oggi i temi che vanno sempre vissuti in contemporanea, a differenza di quello che succedeva in passato. Quindi questa è la vera rivoluzione in questo termine.